Suorinesse si occuperà di te durante la notte. Ma vuoi scherzare? Cosa legge? È la biografia della nostra fondatrice. C'è moltissima povertà e tanti malati. E se io volessi farmi suora? L'appassionante storia della serva di Maria, Soledad Torres a Costa. E come hai detto che si chiamerà? Sorella Soledad. Difficoltà. Non ci fanno credito e non c'è nulla da mangiare. Rivoluzioni. Avete visto le suore? Quali suore? Epidemie. C'è l'ordine di quarantena in città per il colera. Luz de Soledad al servizio degli infermi. In prima tv assoluta domenica alle 21.15 su TV 2000. I poveri e i malati sono la nostra priorità.